Questo brano nasce per caso dall'incontro con Rico, perché è stata una cosa casuale, perché l'ho raccontato già penso cento volte quest'aneddoto, ma è importante. Io ogni tanto la mattina vado a correre, vado a camminare, un giorno incontrai Rico per caso. Lui si spiava un caffè, io correvo. E poi ci siamo sentiti su Instagram, ci siamo visti ed è nata questa canzone quasi per magia, veramente, è il caso di dire così. Sì, sì. E invece io credo che tutto quello che succede nella vita non è puro caso, ma è tutto destino. Quindi secondo me era un pezzo destinato a fare successo con Mr. Hyde e Rico Femiano. Tutta la generazione, tutti gli citi sociali, cioè piace al popolo, piace ai, come ne chiama Gianni Signori, gli attili, insomma questo pezzo piace a tutti. Non ce l'aspettavamo, a noi piaceva perché ci è piaciuta da subito, pure lui appena l'ha ascoltata, ha detto ragazzi questa canzone mi piace, però non ci aspettavamo, io non mi aspettavo tutto questo successo, sinceramente. Guarda, noi non lo diciamo perché per non essere troppo, tra virgolette, buffoni. Esatto. Non te lo dico proprio, fa pella, fa pella. Però secondo me hai azzeccato la cosa, è così, è così. Allora fa paura, cioè pensarlo, perché ovviamente quando poi ti metti a scontrarti con un pezzo che è un colosso, non è semplice, allora o fai una cosa all'altezza oppure hai mai dato film. Però io sinceramente ci avrei voglia di fare qualche altra cosa con Rico, però deve nascere un pezzo forte. Io credo che la cosa che è nata ancora di più è l'amicizia, perché è più importante della canzone, è più importante di tutto, è diventata, è un fatto umano, è la cosa, oggi è molto molto importante. Io lo spero anche perché sono due date in un momento molto molto difficile di Green Pass, diciamo, l'evoluzione del Green Pass, tante cose che comunque bloccano un po' le persone, però io sono molto fiducioso e il 18 e il 19 febbraio, ragazzi, vi aspettiamo tutti al Teatro Lendi, perché è abbastanza insieme, non esiste, non ci dovranno fermare, non ci dovranno bloccare, noi abbiamo voglia di fare musica e di farla a certi livelli, quindi vi aspettiamo, dai davvero. Ma in verità non lo so, però spero di sì, spero di sì e lo spero che lo farà Insigne. Io faccio, infatti, voglio fare un appello a Insigne, pubblicamente Insigne, noi siamo innamorati di te. Canta un cielo, state il cammuchero. Canta un cielo, non lo puoi sentire veramente, non so come far arrivare questo messaggio a Lorenzo Insigne, noi ti amiamo e per noi tu sei la cosa più bella. Grande, 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 forza Napoli. Quello qua ce l'abbiamo, sì, da sempre, dal 2006 c'è un disco che si chiama Dieci, il nostro disco, vorremmo mangiare Maradona all'epoca, lo portiamo sempre nel cuore e ci fa piacere, comunque gira tutto intorno a questo Dieci, per quanto mi riguarda, Dieci Lab, Dieci Movie, Dieci Records, tutto, tutto. Ti amo, Diego, ti amo veramente. Grazie a tutti.